Nella notte di domenica e nelle prime ore del mattino di oggi è scesa copiosa la neve sul capoluogo di Regione Lucano. Le strade di Potenza, coperte dal manto bianco, hanno acquisito quel fascino tipico che caratterizza le giornate invernali del capoluogo di Regione più alto d'Italia. Condizione che ha portato il sindaco di Potenza, Mario Guarente, a emanare una ordinanza che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, la seconda chiusura precauzionale dopo quella che era già stata prevista per sabato scorso. Questa volta però ha specificato il primo cittadino l'ordinanza non ha riguardato gli asili nido e l'università. Infatti, in un post su Facebook dell'una e mezza di questa notte, Guarente ha specificato che, dopo aver avuto un confronto con il rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, Imiazio Marino, l'Unibas avrebbe regolarmente proseguito con l'attività didattica. La macchina organizzativa è stata prontamente attivata ed infatti stamani le strade del capoluogo sono libere e transitabili. Da oggi fino a venerdì, come ci ha confermato il meteorologo Mario Latronico, le temperature saliranno e non dovrebbe più nevicare. I fiocchi bianchi potrebbero tornare a scendere sul capoluogo lucano venerdì a causa di una nuova depressione. Altra neve potrebbe arrivare per la fine di gennaio. Studenti avvisati, forse la neve vi potrà regalare qualche altro giorno di vacanza.